OEM c'è il piano americano, il nostro live accanto ai lavoratori dopo il vertice di oggi in fiera. Caccia ai killer di Trigiano, i carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore di vita del pregiudicato ucciso sabato scorso per motivi ancora da chiarire. Regionali comizi e ricorsi, la poli si appella al TAR per l'annullamento della scheda elettorale che la penalizzerebbe, intanto i candidati presentano i programmi. Pressing degli insegnanti, il nostro focus sul flash mob di oggi pomeriggio in Piazza Libertà a poche ore dall'approvazione della riforma che attribuisce superpoteri ai presidi. Buonasera diretta dalla redazione di Telebari, come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti. Partiamo subito dal titolo di apertura, un piano americano riaccende le speranze per l'OM. A poche ore dalla presentazione del piano industriale in fiera, alla presenza del presidente della regione Puglia, Niki Vendola, abbiamo voluto tastare gli umori dei lavoratori. Lo facciamo davanti ai cancelli dello stabilimento dove c'è per noi Silvia di Pinto. Silvia, buonasera. Abbiamo qualche problema evidentemente di ritorno audio del nostro collegamento in diretta. Allora non appena ripristineremo il problema tecnico ci ricollegheremo, lo ricordo, davanti ai cancelli dello stabilimento dell'OM per verificare. Non so, chiedo l'Umi alla regia, se siamo riusciti a ripristinare il collegamento mi dicono di sì, quindi ci riproviamo. Silvia. Sì, Alessandra, ti dicevo prima, ci siamo stati qui durante i lunghi mesi di sit-in, poi ancora durante la protesta per raccogliere un po' le fibrillazioni, le preoccupazioni. Adesso invece in qualche modo raccogliamo un piccolo sospiro di sollievo, non è una storia finita. Allora facciamo così, ripristiniamo il problema e andiamo invece a illustrarvi questo piano industriale che è stato presentato oggi alla Fiera del Levante, abbiamo detto si riaccendono le speranze per l'OM, una storia però ancora tutta da definire. Sentiamo il servizio e poi ritorniamo in studio e ritorniamo davanti ai cancelli dell'OM. 80 milioni di euro sui due stabilimenti di Modugno e Gioia Tauro per costruire un nuovo prototipo di auto ultra tecnologico realizzato con materiali più leggeri dell'acciaio. L'ultima proposta per far rivivere l'OM Carrelli arriva da un fondo di investimenti americano LCV Capital Management di Pittsburgh. Tra le varie manifestazioni di interesse, alcune delle quali vedono protagonisti imprenditori pugliesi, la Regione Puglia e la Regione Calabria hanno deciso di presentare a lavoratori e sindacati per prima questa, per solidità dell'investimento spiega l'assessore Leo Caroli e per il fascino del progetto. I soldi in parte potrebbero arrivare con la firma di un contratto di programma, annuncia Invitalia che come agenzia accompagna il fondo americano. I lavoratori sono rassicurati, saranno reintegrati 194 dipendenti OM e sarebbero previste anche 200 nuove assunzioni solo a Bari. A Modugno la realizzazione della parte infrastrutturale dell'automobile, mentre l'assemblaggio e la produzione dei pannelli finali verrà realizzata a Gioia Tauro. Quindi sostanzialmente 80 milioni di investimento complessivi divisi equamente tra Puglia e Calabria dove la parte più industriale ovviamente è legata alla zona industriale di Modugno, mentre la parte più di assemblaggio e logistica anche per le caratteristiche di Gioia Tauro è localizzata nel porto di Gioia Tauro. Ora la palla passa al Ministero dello Sviluppo Economico, sottolinea Nichi Vendola. Noi abbiamo voluto fare un'operazione trasparenza anche per tranquillizzare i lavoratori. Noi chiediamo al Governo, abbiamo chiesto in questi mesi, di aiutarci nella valutazione della solidità finanziaria e della solidità del piano industriale. Ci sono altre manifestazioni di interesse che riguardano il sito OM di Bari e anche quelle noi intendiamo presentarle ai lavoratori e ai sindacati. L'avete sentito, l'avvertenza non è ancora definita, però si riaccendono delle speranze per i lavoratori dell'OM. Allora andiamo a sentire dalla loro viva voce come hanno appreso questo piano industriale presentato oggi. Silvia, torno da te. Sì, Alessandra. Allora, intanto questo incontro di questa mattina era a porte chiuse, quindi realmente la viva voce dei rappresentanti di questo fondo americano l'hanno sentita soltanto i lavoratori. A cui chiedo subito, che impressioni avete avuto? Beh, l'impressione da quello che ci hanno detto, perché non è che è stato detto in maniera molto dettagliata, però il progetto ci è sembrato buono, anzi troppo forse anche per crederci realmente dopo quello che abbiamo subito in questi anni. Però appunto la sensazione è quella proprio, cioè ci avete spiegato tutto adesso, il progetto sembra buono. Perché non concludiamo nel più breve tempo possibile? Alessandra, il nostro amico diceva comunque bene che si arriva dopo tre anni di vicissitudini anche di promesse disattese. Questa è un po' la vostra cautela per cui oggi non state qui banalmente a stappare. Sì, in effetti il progetto è affascinante e ambizioso, però noi vediamo appunto che sono 45 mesi di mancate industrializzazioni. Allora quindi siamo veramente, oggi abbiamo un cauto ottimismo. Speriamo che al più presto appunto il MISE sciolga le riserve che ha per quanto riguarda questo progetto e si avvii effettivamente. E allora Alessandra, magari qualche dettaglio in più e anche qualche sensazione su quali saranno i prossimi step li sentiamo tra poco. Restituisco la linea allo studio. Ringraziamo Siva Di Pinto, come sempre il nostro live ci accompagnerà nel corso di tutto il nostro telegiornale. Intanto andiamo avanti con la pagina politica. Berlusconi, mai visto un monarca fondare il Partito Repubblicano? L'ironia e le critiche sono di Francesco Storace in tour in Puglia a sostegno di Francesco Scrittulli. Sentiamo. La guardia del Partito Repubblicano non credo affatto che ci creda Berlusconi perché non ho mai visto un monarca battersi della Repubblica. Berlusconi, un monarca che ha saputo solo dividere Vitali e Lapoli Bortone i protagonisti della schifezza in salsa pugliese. Non risparmia critiche agli avversari ex alleati Francesco Storace. Il leader nazionale della destra è oggi in Puglia per il tour elettorale a sostegno di Francesco Scrittulli e dei candidati nella lista Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Forza Italia è finita rovinosamente, ripete Storace. Berlusconi è venuto in Puglia per dividere, laddove invece l'Italicum impone di lavorare per l'aggregazione. Le prossime regionali per Storace saranno la partita dell'orgoglio di una destra che non tradisce. La schifezza che è stata combinata da chi è andato a pescare dentro Fratelli d'Italia, un candidato che aveva giurato che non si sarebbe mai più candidato, questo potrei fare testimonianza giurata ovunque, è qualcosa di incredibile. Forza Italia era nata un tempo come una macchina per vincere, non c'è questo obiettivo, quindi Forza Italia farà una fine rovinosa, a meno che non ci sia l'effetto vitale, diciamo, che è importante come talismano, però credo che potrà affermarsi invece chi ha le ragioni della rappresentanza prevalente rispetto al potere. La candidata alla presidenza della Regione Puglia, Adriana Poli Bortone, con Forza Italia e noi con Salvini, ha chiesto al Tardi Puglia di annullare previa sospensiva la scheda elettorale della prossima competizione elettorale pugliese. I giudici amministrativi decideranno su ricorso nelle prossime ore. Secondo il legale di Poli Bortone, dalla scheda elettorale preparata dalla Prefettura di Bari risulta una evidente disomogeneità nella distribuzione dei nominativi e relativi contrassegni dei candidati alla Presidenza della Regione, con grave documento a discapito della ricorrente, che è stata relegata in una zona della scheda che non consente un'agevole individuazione del suo nominativo affogato in una serie di altri nomi. Serata conclusiva, sabato sera, al palazzetto del Cus della Sagra delle Sagre di Michele Emiliano, candidato del centro-sinistra alla Presidenza della Regione Puglia, è stata l'occasione per definire la stesura del suo programma di governo. Il programma e le relative priorità saranno presentate domani in conferenza stampa da Michele Emiliano e dagli esponenti della coalizione che sostiene la sua candidatura a governatore della Puglia. Ieri mattina all'Hotel Excelsior di Bari l'ex prefetto Antonio Nunziante in Lizza per un posto nel Consiglio della Regione Puglia a sostegno di Michele Emiliano ha incontrato i suoi sostenitori. Non faccio il politico, non faccio promesse, ha ribadito in più occasioni Nunziante, il mio sarà impegno sociale come ho fatto nei miei 41 anni di servizio. L'ex prefetto nel suo programma punta alla questione giovanile nell'ottica di una valorizzazione dei cervelli del Sud, tra le priorità anche la necessità di sfruttare come risorsa il flusso di materia come capitale della cultura. La cronaca è giallo sull'omicidio di Giovanni Sblendorio, il pregiudicato 34enne ucciso in un agguato sabato mattina a Trigiano, oggi l'autopsia, gli aggiornamenti da Cristina Ferlini. Verrà eseguita oggi al Policlinico di Bari l'autopsia sul corpo di Giovanni Sblendorio, il 34enne assassinato sabato mattina in un agguato a Trigiano. Un proiettile conficcato nella nuca che ha ucciso sul colpo il pregiudicato di Ceglie del Campo, un passato trascorso nel giro del malaffare legato allo spaccio della droga. Sblendorio, quattro anni fa, era stato coinvolto anche in una operazione della Guardia di Finanza che portò a numerosi arresti tra Loseto, Carbonara e Ceglie. Nessun elemento in più per le indagini è stato fornito ai carabinieri, dai familiari della vittima e dai testimoni dell'agguato. Neanche le telecamere di videosorveglianza acquisite dai militari sono riuscite ad inquadrare il luogo dove Sblendorio è stato ucciso. Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, si sembra che il 34enne fosse uscito dai giri malavitosi già da tempo. I carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Trigiano stanno cercando di risalire ai responsabili dell'omicidio e di chiarire il movente su cui ancora ci sono tanti punti oscuri. Le indagini sono coordinate dai PM della Procura barese, Marcello Barbanente e Patrizia Rautis. Era il nostro ultimo servizio, ci fermiamo a pausa pubblicitaria, rientro commenteremo i principali fatti di questa giornata con l'amico e collega della Gazzetta del Mezzogiorno, Bepi Martellotta. Rieccoci ancora qui diretta ad accompagnarci oggi nel commento dei principali fatti di questa giornata, Bepi Martellotta, amico e collega della Gazzetta del Mezzogiorno. Buonasera, ciao. Allora, parleremo principalmente, almeno in apertura, della vertenza OEM, visto che oggi c'è stata la presentazione di questo piano industriale, di questo fondo americano. Allora, colleghiamoci subito con lo stabilimento OEM, dove c'è per noi Silvia Dipinto, per raccogliere le prime impressioni dei lavoratori di una vertenza che però non è ancora definita, non c'è ancora il lieto fine di questa grande vertenza. Silvia. Sì, Alessandra, allora intanto subito, che cosa vi convince di questo progetto, cosa vi affascina, no, rispetto a quello che avete sentito? Allora, di questo progetto ci affascina principalmente i tempi, perché hanno parlato di assunzioni immediate, cioè addirittura entro l'anno, e quindi per noi, che stiamo da tanti mesi, anni, aspettando questo evento, siamo rimasti un po' sballorditi, sembra una favola, ecco, diciamola così. E ricordiamo anche, Alessandra, che si è parlato di 1200 assunzioni a lungo termine extra tra Puglia e Calabria, quindi potrebbe essere davvero quasi una manna dal cielo. Se dovesse andare in porto questo progetto, voi dovreste fare intanto formazione, perché voi prima non facevate componenti per auto? Sì, in effetti, appena l'azienda, la LCV, entra in possesso appunto del sito di Bari, dovrebbe, ha bisogno di 16 mesi per, appunto, per avviare la produzione, e dovrebbero produrre 20.000 auto all'anno. Noi iniziamo con 200 assunzioni, poi appena inizia la produzione, arriveremo a 300, per poi aumentare. E allora, Alessandra, adesso quello che succederà e a chi passa la palla, cioè a Roma, magari ne discutiamo tra pochissimo, perché è uno dei punti su cui i lavoratori sono chiaramente più in apprensione. Grazie, Sivio. Allora, Bepi, c'è un cauto ottimismo da parte dei lavoratori, giustamente, verrebbe da dire, perché non sarebbe la prima volta che l'OM si trova ad un passo dalla soluzione positiva di questa vertenza, e ovviamente si rischia di inciampare per l'ennesima volta in una speranza che poi si vanifica. Eh sì, ahimè, purtroppo bisognerà aspettare che cosa decide il Ministero del Lavoro, che ovviamente è quello che ha il boccino in mano quando ci sono grosse vertenze. Purtroppo il nostro territorio in quest'ultimo anno ha sofferto particolarmente, proprio in quel settore della componentistica, perché sappiamo che ci sono state grandi crisi industriali di molte aziende multinazionali che qui hanno cominciato a disinvestire. Ci auguriamo, vedo che i lavoratori guardano con ottimismo al futuro, auguriamoci che ne abbiano tutte le ragioni, che questa azienda non smantelli quello che ci ha lasciato qui a Bari, perché è importante, è importante che queste aziende in Puglia restino e continuino a fare le loro attività nella speranza che riescano a tenere sul mercato, perché si sta restringendo incredibilmente. Ecco, Beppi, guardando la storia delle multinazionali che hanno operato qui nella provincia di Bari, ma anche in Puglia, condividi il sospetto che molti hanno, che poi in realtà questi multinazionali soffriscono di fondi pubblici depredando di fatto il territorio e poi andando via e delocalizzando laddove nel momento in cui finisce il progetto per il quale si erano instaurati nel territorio? Sicuramente questo è stato uno dei motivi principali, perché nel corso dei decenni, ormai parliamo di aziende alcune delle quali si sono insediate qui sin dagli anni 70, c'è stata questa corsa agli incentivi che l'Italia elargiva e quindi a insediarsi e poi magari smantellare tutto e andare all'estero. Però è anche vero il contrario, che abbiamo una delle tassazioni più elevate d'Europa e giustamente aziende che non riescono ad affrontare la crisi, a tenere sulla competizione nei mercati, arriva a un certo punto che non ce la fanno più, perché abbiamo un livello di IRAP di imposta sulle attività produttive che è qualcosa di spaventoso, senza considerare le addizionali regionali che sono stati messe in questi anni. Il costo del lavoro continua ad essere elevatissimo, continua ad esserci un cuneo fiscale pazzesco, per cui la busta paga del lavoratore è all'incirca la metà, se non un terzo, di quello che l'azienda paga sul singolo lavoratore. È chiaro che bisogna uscire da questa situazione, nel Sud questa situazione comporta delle sofferenze maggiori, perché ovviamente c'è una crisi che è ancora più forte. Allora, parliamo di politica, anche la politica sta conoscendo una crisi profonda, soprattutto il centro-destra. È stata una settimana particolarmente intensa, con la sfilata di Big de Rilievo Nazionale, beh, insomma, Berlusconi è tornato in Puglia dopo tre anni circa, in quella Bari che le ha voltato le spalle, tanto amata e tanto odiata alla fine, perché è la Bari di Patrizia D'Addario, è la Bari del processo Escort, però è la Bari anche di Pinuccio Tattarella, insomma, è una Bari che le ha saputo dare ma ne ha anche tolto. Sì, diciamo che deve essere un posto strano la nostra città per Berlusconi, perché sicuramente in diverse occasioni gli ha regalato dei bagni di folla pazzeschi, e comunque c'è una tradizione del centro-destra molto forte qui a Bari, in Puglia, appunto, tu ricordavi Pinuccio Tattarella, diciamo, c'è una storia molto lunga, noi giornalisti ricordiamo l'impossibilità di avvicinare l'allora Presidente del Consiglio ogni volta che veniva in fiera, perché c'era una folla incredibile, non si riusciva neanche a parlarci, questa volta, ahimè, è cambiato completamente lo scenario, nel frattempo sono accadute le sue vicissitudini personali con questi personaggi che lo hanno avvicinato, Tarantini, proprio Baresi che si sono, diciamo, candidati ad utilizzare la sua immagine, la sua immagine evidentemente è in caduta libera, almeno in alcuni territori, in particolare nel nostro, visto la guerra interna confitto e quindi ha trovato una situazione decisamente diversa, loro riferiscono, da Forza Italia riferiscono che le iniziative che hanno fatto, le scene elettorali di finanziamento, le iniziative a Lecce sono andate particolarmente bene, certo, non lo so cosa accadrà alle urne, e non credo che ci sarà questo successo che loro sostengono di poter ancora avere. Intanto Forza Italia è in declino inarrestabile, secondo te, visto che ormai il divorzio è stato ufficialmente siglato tra Fitto e Berlusconi, si tende adesso a guardare oltre, queste regionali si possono considerare un po' lo spartiacque tra vecchia e nuova politica, se ci sarà in effetti un nuovo soggetto politico? Assolutamente sì, anche perché abbiamo visto nei giorni scorsi ormai la convivenza tra Fitto e Berlusconi è diventata impossibile, Fitto di fatto ha ufficializzato il suo strappo, ha deciso di lasciare il Partito Popolare europeo, quindi si prospetta diciamo un disegno di totale divaricazione, in realtà in Puglia il problema di Forza Italia si chiama Raffaele Fitto, la lista oltre confitto che è presumibile essendo un movimento diciamo molto radicato nei territori i suoi consiglieri regionali, i suoi uomini, i suoi colonnelli, quelli che diciamo hanno tenuto di fatto le fila del partito in questi anni sono sicuramente portatori di voti quindi è presumibile che nella sfida tra le due componenti abbia la meglio quella di Fitto ma in realtà il problema di Forza Italia non è solo in Puglia perché abbiamo visto le amministrative in Trentino, abbiamo visto cosa sta accadendo in altre regioni, ci sarà un grosso problema che si chiama Matteo Salvini che è intenzionato a prendere le redini del centrodestra nazionale quindi in realtà è una situazione dalla quale sarà difficile che Forza Italia ne possa uscire indenne se non con un ripensamento totale Berlusconi parla di questo grande partito moderato, popolare, repubblicano che dovrebbe mettere insieme tutte le forze diciamo conservatrici e moderate del paese ma io ho la sensazione che siano davvero in pochi quelli che abbiano intenzione di seguirlo in questo progetto. Ecco, ne abbiamo dato conto anche all'interno del telegiornale c'è questa richiesta al Tar da parte della candidata per Forza Italia non i consalvini Adriana Polibortone che si è appellata al Tar appunto per l'annullamento delle schede per le elezioni regionali che le arrecherebbero un pregiudizio per la collocazione del suo nome all'interno delle schede. La trovi come la legge? Una trovata in chiave elettoralistica Sì, insomma, intanto quello che possiamo dire è che è veramente una campagna elettorale di bisticci cioè non non si è riusciti a vedere in tutti questi mesi e speravamo di vederlo almeno nelle ultime settimane una situazione diciamo nella quale ci si affrontasse su grossi temi no? C'è sempre qualche dispettuccio in più qualcuno che si alza e va a contare le sedie a Lecce se sono rimaste vuote o piene con Berlusconi qualcun altro che si alza e fa ricorso al Tar mi sembra sinceramente una situazione non voglio definirla come posso dire sarei rispettoso nel definirla ridicola però è veramente un modo di fare politica che proprio secondo me sta totalmente allontanando i cittadini da queste urne alle quali temo temo perché sarebbe un brutto segnale per tutti quanti ci sarà una disaffezione spaventosa ecco Bebi c'è un'altra polemica che sta investendo un po' tutti gli schieramenti che è quella sugli impresentabili nelle liste anche questo e schermagli la campagna elettorale beh lì diciamo c'è un problema un tantino diverso intanto dobbiamo dire che in Puglia non abbiamo situazioni particolarmente allarmanti se ci confrontiamo con quanto sta succedendo in Campania dove leggiamo che ci sono candidati accusati di pedofilia piuttosto che gente vicina alla criminalità organizzata diciamo a questo livello non stiamo almeno per quello che ci è dato sapere però di certo diciamo che sia da una parte che dall'altra perché anche nel centro-sinistra abbiamo visto il caso della signora che è stata di fatto se n'è uscita dalla lista di Stefano dei Vendoliani perché era vicina ad un criminale in realtà sia a sinistra che a destra ci sono persone che diciamo avrebbero fatto bene a non candidarsi o meglio avrebbero fatto bene i partiti o i movimenti che vogliono candidarli a fare una selezione un po' più attenta ecco perché alla fine poi l'obiettivo deve essere avere non persone presentabili o impresentabili persone oneste che si vanno a sedere in consiglio regionale visto che ci rappresenteranno per i prossimi cinque anni infatti allora in chiusura parliamo invece della riforma contro la protesta scusate contro la riforma la buona scuola è una protesta che continua ad allargarsi e si aggiungono tra l'altro nuovi appuntamenti in vista dell'approvazione a Montecitorio una protesta non solo ideologica avrebbe da dire visto che abbiamo visto molti operatori della scuola e non soltanto iscritti ai sindacati questo per rispondere anche a molte accuse di questa contro protesta che c'è stata che ha puntato l'indice contro i sindacati sì in realtà lo sbaglio di fondo probabilmente del governo è stato nel voler a tutti i costi correre all'approvazione di questa riforma perché come tutte le riforme strutturali in particolare nel mondo della scuola è particolarmente difficile fare delle riforme andava probabilmente discussa di più con gli intermediatori sociali diciamo i sindacati i rappresentanti per cui adesso diciamo sta accadendo quello che era imprevedibile e cioè che Renzi si ritrovasse contro nelle sue piazze proprio il popolo che va a votare il PD perché poi la stragrande maggioranza diciamo dei docenti delle scuole è noto che è più vicino al centro-sinistra diciamo per cui tutto si può dire tranne che sia una battaglia ideologica di certo nei prossimi giorni ne assisteremo delle belle perché non credo che si arresterà qui con l'approvazione del DDL si arresteranno le proteste ma in particolare in Puglia mi permetto di dire ne vedremo delle belle perché c'è il possibile vincitore delle urne dobbiamo aspettare il primo giugno per saperlo Emiliano che si è schierato apertamente a favore della protesta al punto tale da aver registrato l'assenza del ministro Boschi alla sua ultima manifestazione la sagra delle sagre proprio nel timore che ci fossero delle proteste nei confronti del governo amico in realtà questo ci fa capire che probabilmente Emiliano una volta qualora dovesse vincere l'elezione una volta insediatosi come governatore inizierà a proporsi come l'anti Renzi del sud un nuovo amico nemico insomma la storia si ripete verrebbe da dire allora siamo in chiusura io vi ringrazio amico e collega della Gazzetta del Mezzogiorno Vivi Martellotto come va nella nuova sede? con tante difficoltà logistiche ma diciamo si continua a lavorare perfetto allora grazie Vivi per essere stato con noi grazie a voi ci fermiamo pubblicità e poi altre notizie e altri collegamenti in diretta dalla sede dell'OM tra poco grazie a tutti OM c'è il piano americano il nostro live accanto ai lavoratori dopo il vertice di oggi in fiera caccia i killer di Trigiano i carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore di vita del pregiudicato ucciso sabato scorso per motivi ancora da chiarire regionali comizi e ricorsi la polisi appella al TAR per l'annullamento della scheda elettorale che la penalizzerebbe intanto i candidati presentano i programmi pressing degli insegnanti il nostro focus sul flash mob di oggi pomeriggio in piazza Libertà a poche ore dall'approvazione della riforma che attribuisce superpoteri ai presidi eccoci ancora qui in diretta allora ripartiamo subito dal nostro live in diretta dallo stabilimento con i lavoratori dell'OM Silvia torno da te allora Alessandra se potessimo riassumere con una battuta un po' il sentimento qui dei lavoratori sembra quasi troppo bello per essere vero adesso la palla passa a Roma i vostri timori sono un po' su questo sulla tempistica e se vogliamo anche che qualcuno vi possa scippare questo bel progetto sì perché ci sono diciamo delle scadenze sia personali che appunto a noi scade il primo anno di mobilità e quindi sappiamo che anche a livello retributivo comunque diminuisce diciamo il nostro stipendio e in più ci sono anche delle scadenze che abbiamo saputo oggi perché entro il 10 giugno questa nuova azienda può fare appunto richiesta per un finanziamento europeo e quindi sono tempi brevi e noi appunto vogliamo un segnale da Roma perché ci aspettiamo per questa settimana almeno la convocazione e allora Alessandra questo tavolo appunto che è stato rimandato si aspetta che venga riconvocato l'auspicio per noi invece che la prossima diretta il prossimo live lo facciamo all'interno dei cancelli con le tute mi avete detto con le tute sarebbe proprio un sogno perché sinceramente vogliamo indossarla nuovamente una tuta per sentirci lavoratori realmente e allora Alessandra con questo auspicio quale miglior auspicio ti saluto e ti restituisco la linea allo studio ovviamente in quell'occasione non mancheremo di stappare a questo punto e di brindare allora ringraziamo Silvia e i lavoratori vi spieghiamo invece in dettaglio questo piano industriale che è stato presentato oggi un fondo un fondo di investimenti americano che tra Puglia e Calabria vorrebbe costruire un nuovo prototipo di auto previsti anche 200 nuove assunzioni sentiamo 80 milioni di euro sui due stabilimenti di Modugno e Gioia Tauro per costruire un nuovo prototipo di auto ultra tecnologico realizzato con materiali più leggeri dell'acciaio l'ultima proposta per far rivivere l'OM Carrelli arriva da un fondo di investimenti americano LCV Capital Management di Pittsburgh tra le varie manifestazioni di interesse alcune delle quali vedono protagonisti imprenditori pugliesi la regione Puglia e la regione Calabria hanno deciso di presentare a lavoratori e sindacati per prima questa per solidità dell'investimento spiega l'assessore Leo Caroli e per il fascino del progetto i soldi in parte potrebbero arrivare con la firma di un contratto di programma annuncia Invitalia che come agenzia accompagna il fondo americano i lavoratori sono rassicurati saranno reintegrati 194 dipendenti OM e sarebbero previste anche 200 nuove assunzioni solo a Bari a Modugno la realizzazione della parte infrastrutturale dell'automobile mentre l'assemblaggio e la produzione dei pannelli finali verrà realizzata a Gioia Tauro quindi sostanzialmente 80 milioni di investimenti complessivi divisi equamente tra Puglia e Calabria dove la parte più industriale ovviamente è legata alla zona industriale di Modugno mentre la parte più di assemblaggio e logistica anche per le caratteristiche di Gioia Tauro è localizzata nel porto di Gioia Tauro Ora la palla passa al Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea Niki Vendola noi abbiamo voluto fare un'operazione trasparenza anche per tranquillizzare i lavoratori Noi chiediamo al governo abbiamo chiesto in questi mesi di aiutarci nella valutazione della solidità finanziaria e della solidità del piano industriale ci sono altre manifestazioni di interesse che riguardano il sito OM di Bari e anche quelle noi intendiamo presentarle ai lavoratori e ai sindacati Andiamo avanti con la protesta contro la riforma della scuola un libro in mano e i volti coperti da bavagli tornano in piazza prefettura con un flash mob insegnante cittadini per protestare contro il disegno di legge buona scuola in particolar modo sulla segnazione dei poteri ai dirigenti scolastici i segretari provinciali dei sindacati CGL CIS Will Snals e Gilda hanno poi incontrato il sindaco di Bari Antonio De Caro chiedendo una monotematica sul tema in aula d'alfino al primo cittadino del vice prefetto vicario Biagio di Girolamo è stata consegnata una lettera documento legge il DDL sulla scuola attualmente in discussione si legge nella nota è lontano dei principi annunciati dalla nostra Costituzione La cronaca è giallo sull'omicidio di Giovanni Sblendorio il pregiudicato 34enne ucciso in un agguato sabato mattina a Trigiano oggi l'autopsia gli aggiornamenti da Cristina Ferrini Verrà eseguita oggi al Policlinico di Bari l'autopsia sul corpo di Giovanni Sblendorio il 34enne assassinato sabato mattina in un agguato a Trigiano un proiettile conficcato nella nuca che ha ucciso sul colpo il pregiudicato di Ceglie del Campo un passato trascorso nel giro del malaffare legato allo spaccio della droga Sblendorio quattro anni fa era stato coinvolto anche in una operazione della Guardia di Finanza che portò a numerosi arresti tra Loseto Carbonara e Ceglie nessun elemento in più per le indagini è stato fornito ai carabinieri dai familiari della vittima e dai testimoni dell'agguato neanche le telecamere di videosorveglianza acquisite dai militari sono riuscite ad inquadrare il luogo dove Sblendorio è stato ucciso secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti sembra che il 34enne fosse uscito dai giri malavitosi già da tempo i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Trigiano stanno cercando di risalire ai responsabili dell'omicidio e di chiarire il movente su cui ancora ci sono tanti punti oscuri le indagini sono coordinate dai PM della procura barese Marcello Barbanente e Patrizia Rautis Ancora cronaca giudiziaria il gruppo del tribunale di Bari Antonio Diella ha condannato appena comprese fra i tre anni e due mesi di reclusione e i due anni e otto mesi sette presunti affiliati all'organizzazione criminale georgiana smantellata dalla magistratura barese nel giugno 2013 nell'operazione Sciotca la sentenza è stata messa al termine di un processo celebrato con diritto previato il giudice non ha riconosciuto i sette imputati che secondo la procura sono affiliati ad un clan mafioso colpevoli del reato di associazione mafiosa condannandoli per associazione per delinquere semplice ha fatto tappa Bari la staffetta dell'esercito marciava il progetto dell'esercito italiano per commemorare i cento anni dall'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale gli atleti della forza armata hanno partecipato ad una staffetta non competitiva che ha attraversato la città metropolitana passando per la caserma Picca lì scandito dalle note della fanfara dei bersaglieri c'è stato il passaggio del testimone al quale hanno assistito autorità cittadini e studenti durante la manifestazione il generale di brigata Natalino Madedu dopo aver ricordato i caduti italiani della grande guerra ha premiato gli studenti dell'istituto tecnico vivante di Bari e i vincitori del concorso fotografico la via della grande guerra bene era la nostra ultima notizia ci fermiamo pausa pubblicitaria rientro la protesta che si è tenuta anche oggi contro la riforma alla buona scuola lo faremo con Ezio Falco segretario provinciale della FLCCGL Bari a tra poco si allarga la protesta contro la riforma voluta da ministro Giannini e dal premier Renzi la riforma ormai nota a tutti la buona scuola proteste che si allargano a livello nazionale anche in vista del voto previsto per mercoledì alla Camera io saluto subito Ezio Falco segretario provinciale della FLCCGL buonasera e benvenuto buonasera allora intanto c'è stato un flash mob oggi pomeriggio in piazza Libertà che ha visto tutte le sigle sindacali protestare e scendere in piazza contro questa riforma c'è stato anche un incontro con il sindaco Antonio De Caro poi vi ha ricevuto anche il vice prefetto quali le vostre richieste? noi abbiamo chiesto innanzitutto alle amministrazioni locali chiederemo alle amministrazioni locali oggi l'abbiamo chiesto a Bari al sindaco di Bari che è anche sindaco della città metropolitana quindi con competenze sulle scuole secondarie di secondo grado abbiamo chiesto di pronunciarsi sulla riforma sulla buona scuola perché crediamo che la scuola non sia un affare dei sindacati come anche recentemente detto il ministro la scuola non è un affare soltanto delle organizzazioni sindacali riguarda tutti i cittadini e ovviamente riguarda in prima persona i sindaci e gli amministratori locali a partire da mercoledì prossimo oggi abbiamo tenuto questo presidio questo flash mob in piazza prefettura ma a partire da mercoledì saremo in tutti i comuni della provincia di Bari con assemblea alle quali abbiamo invitato a partecipare le istituzioni locali sindaci, assessori consiglieri comunali proprio perché facciano la stessa cosa che abbiamo chiesto al sindaco di Bari cioè di tenere un consiglio comunale monotematico di approfondire il tema di discuterlo perché siamo disposti noi vogliamo entrare nel merito delle proposte sulla buona scuola abbiamo dei contenuti da mostrare da spendere vogliamo confrontarci ecco segretario diciamo che la scuola può essere considerata un investimento silenzioso sul futuro che cosa vi fa più paura di questa riforma sono tanti elementi controversi decisamente sono tanti non basterebbe un'intera trasmissione per elencarli innanzitutto va detto che la scuola è un sistema con equilibri molto delicati che non possono essere incisi nell'arco di due mesi e quindi chiediamo innanzitutto più tempo per poter discutere di tutte le proposte di riforma che sono state avanzate ma in particolar modo ovviamente ci preoccupa questa competenza eccessiva attribuita ai dirigenti scolastici nel sistema dell'inserimento dei docenti negli albi territoriali insomma tutti i sistemi che stravolgono alcuni degli assetti che adesso conosciamo con i quali funziona la nostra scuola pubblica statale che avrebbero bisogno appunto di molto più tempo per essere discussi approfonditi e mandati a regime insomma così com'è ci sembra che la riforma non funzioni minimamente e soprattutto rischi di intaccare gli equilibri che adesso conosciamo indubbiamente sono tanti abbiamo detto gli elementi controversi proviamo a individuarne due o tre sicuramente quello che più si è conquistato la vetrina negativa di questa riforma sono questi superpoteri affidati ai presidi la figura di questo preside manager sostanzialmente cos'è che non convince principalmente perché avranno anche la possibilità di assumere personale docente per la verità diciamo i docenti dovrebbero essere tutti già assunti a tempo indeterminato quindi il dirigente scolastico sostanzialmente chiamerebbe direttamente diciamo con un criterio però di selezione tutto affidato con criteri che adesso stanno venendo fuori nel corso del dibattito parlamentare dei lavori della commissione insomma sono affiorati i primi principi quantomeno i primi criteri il punto è che l'assetto adesso individuato non ci soddisfa ancora non ci soddisfa il meccanismo di attribuzione dei premi da parte del dirigente scolastico una sorta di obolo che verrebbe dato verrebbe concesso ai docenti più performanti che verrebbero individuati da un comitato di valutazione nel quale ci sarebbero anche studenti e genitori insomma non crediamo che un tema di questo tipo non possa essere toccato pensiamo che di valutazione si debba parlare di valutazione dei lavoratori della scuola si debba parlare certamente il problema non può essere risolto nell'arco di due mesi un dibattito sulla valutazione degli operatori dell'educazione che va avanti da 20-30 anni perlomeno non può essere risolto nell'arco di due mesi qualsiasi soluzione trovata in tempi così brevi sarebbe per forza di cose nociva un altro elemento controverso questa sorta di discrasia tra i vecchi e i nuovi assunti sostanzialmente godrebbero di due posizioni completamente differenti anche questo assolutamente c'è questa differenza che verrebbe introdotta diciamo innanzitutto sui ruoli diciamo sulla competenza territoriale i nuovi assunti potrebbero essere diciamo in linea di massima spostati da un punto all'altro della regione coloro che invece sono stati assunti negli anni precedenti e che hanno una loro titolarità potrebbero teoricamente rimanere all'interno della stessa scuola senza essere spostati per tutto il resto della carriera è una bella differenza di posizione per lo meno diciamo c'è una bella discriminazione e questo meccanismo introdotto ancora una volta con tempi così rapidi rischia di alimentare peraltro i contenziosi all'interno della scuola noi diciamo non vogliamo che le scuole si concentrino in un terreno diventi in un terreno dove domina il contenzioso legale il ricorso contro il dirigente scolastico piuttosto che verso l'altro collega ci interessa tenere in piedi invece un sistema di regole un sistema di principi trasparenti oggettivi che oggi sono stabiliti contrattualmente un altro pezzo negativo della riforma è esattamente questo diciamo ci fa saltare il principio della contrattazione dello spostamento dei docenti del personale ATA che verrebbe appunto mandato in soffitta si personale ATA che non figura sostanzialmente in questa riforma magari ne parliamo tra poco però abbiamo realizzato un sondaggio lo ha fatto per noi Serena Russo durante il flash mob di oggi pomeriggio spieghiamo anche le motivazioni di questa protesta soprattutto perché è stato scelto di mettere il bavaglio che è sempre molto efficace come immagine andiamo a sentire questo sondaggio e poi lo commentiamo in studio siamo arrabbiati perché abbiamo subito come un oltraggio un disegno di legge che svilisce il nostro ruolo fondamentale un disegno di legge che colpisce la scuola ma colpisce in realtà la Repubblica italiana in quanto Repubblica democratica noi non capiamo come possa essere possibile mantenere in piedi uno Stato democratico con una scuola autoritaria una scuola in cui i presidi scelgono i docenti come fosse appunto un'azienda e non una scuola e pensate un po' che cosa potrebbe accadere qualora si generalizzasse questa idea per tutto il pubblico impiego che noi creeremo con questo DDL scuole di serie A e scuole di serie B scuole dove le persone che non avranno conoscenza cittadini normali chiamiamoli così saranno praticamente mandati in queste scuole dove non avranno assolutamente nulla e altre scuole invece dove qualcuno qualche privato investirà dei soldi e avremo delle scuole per cittadini scelti quindi creeremo cittadini serie A e cittadini serie B non solo quest'anno sono stati dati di 400 milioni di euro per la scuola privata perché questi soldi vengono dati alla scuola privata e non alla scuola pubblica noi riteniamo noi riteniamo inaccettabile il fatto che c'è una nuova generazione di docenti abilitati tramite TFA che mediamente ha speso 2.500 euro e che non vedrà riconosciuto diciamo il proprio diritto alla certezza del lavoro perché non rientrerà nel pieno di assunzioni del governo e vedrà anche il fatto che la seconda fascia la graduatoria di istituto verrà abolita Quali parti di questo disegno di legge ritenete particolarmente inaccettabile? Allora in particolare ce n'è uno che è quello che viene in qualche modo qualificato come l'articolo che conferisce dei superpoteri al dirigente a nostro modo di vedere l'intenzione è ben chiara quella in qualche modo di attraverso una acquisizione di superpoteri del dirigente attaccare la libertà di insegnamento Stiamo sempre al solito la parte dei poteri ai presidi si distrugge così la collegialità la corresponsabilità nella scuola questi due principi da sempre hanno condotto la scuola avanti con risultati eccellenti sempre è chiaro che poi leghiamo anche la questione al miglioramento stipendiale con un comitato di valutazione che non ha assolutamente parametri per poter effettuare queste valutazioni qui non ci sono soltanto gli addetti ai lavori cioè il personale della scuola non è una rivendicazione corporativa quella che si sta portando avanti io la vedo come una battaglia per il futuro dell'Italia perché salvare la scuola assicurare che la scuola formi davvero le menti e formi alla libertà di pensiero è essenziale per l'Italia insomma quest'ultima dichiarazione è un po' la testimonianza di quello che dicevamo in apertura un po' risposta e anche questa controprotesta che poi c'è stata anche nei giorni scorsi potremmo chiamarla la riforma dei superpoteri dei presidi sostanzialmente perché questa è la parte che più probabilmente sta alimentando la rabbia degli operatori della scuola ma non solo per riprendere le parole dell'ultima signora intervistata però raccogliendo anche le sistemi di mani abbiamo sentito scuola di serie A e scuola di serie B perché si creerebbe questa disparità è un po' complicato da spiegare però il sistema di funzionamento il sistema di finanziamento ideato dal disegno di legge sulla buona scuola prevede che una parte delle risorse assegnate alle scuole possa essere erogato attraverso la destinazione del 5 per 1000 quindi in buona sostanza i contribuenti potrebbero decidere di donare alla propria scuola la scuola frequentata dal proprio figlio una parte diciamo proporzionale alla propria dichiarazione dei redditi diciamo un meccanismo assolutamente sperequativo questo finirebbe a nostro avviso per determinare diciamo una sperequazione diciamo abbastanza profonda tra scuole che possono permettersi che hanno più risorse perché magari hanno un'utenza che proviene da famiglie più agiate quindi insomma più benestanti con 7,30 diciamo più importanti che avrebbero quindi più risorse e magari quelle scuole non ne hanno esattamente bisogno e magari scuole di periferia magari scuole con un'utenza un po' più difficile che vivono già una condizione di disagio di persone che avrebbero meno esattamente quindi la discriminazione anche da questo punto di vista proprio sul piano delle risorse sarebbe acuita e noi sappiamo invece per viverlo quotidianamente che sono proprio le scuole che hanno un'utenza più complicata ad avere più bisogno di risorse maggior bisogno di risorse 30 secondi o meglio facciamo 15 secondi per spiegare invece questa parte di precari che non saranno inseriti in questa infornata di assurdo anche qui il segno del DDL è quello della discriminazione viene strumentalizzata l'operazione di stabilizzazione di questi 100.000 precari ma non ci sono dentro tutti i docenti di scuola dell'infanzia ad esempio precari sono esclusi dalla stabilizzazione il personale ATA è escluso dalla stabilizzazione si rischia con il boicottaggio degli esami eccetera che possano essere bloccati e paralizzati gli esami di terza media noi speriamo che non si debba arrivare a tanto ma siamo pronti a utilizzare qualsiasi strumento di lotta allora stop siamo in chiusura non mi resta che ringraziare Ezio Falco segretario provinciale dell'FLCCGL grazie per essere stati con noi mi sa che torneremo su questo tema delle contestazioni alla riforma non mi resta invece che ringraziare per la parte tecnica di Telebar in regia Michele Acquaviva e Claudio Traversa per la legge mobile insieme alla collega Silvia Di Pinto ringrazio Gianluigi Maggi e Roberto Colella ringrazio voi per averci seguito vi do appuntamento a più tardi arrivederci a più tardi